è arrivato, è arrivato quel giorno e adesso allora possiamo dirlo ufficialmente l'Inter è americani, l'Inter è passata in mano agli americani più di dire no, l'Inter appartiene al fondo OCTRI voglio proprio andare sul pratico, sul concreto l'Inter è passata dai cinesi agli americani da Zhang al fondo OCTRI e con la salita, con la salita, oddio, con la promozione cerchiamo di esprimerci in maniera più appropriata con la promozione di Parma e Como, leggevo su Sky saranno 9 nella prossima serie A, team saranno 9 le squadre con proprietà stanieri io pensavo che fosse anche più ampio questo numero però mi dà da pensare perché fino a qualche decennio neanche decennio fa quando ci stava una squadra eravamo un po' spiazzati adesso invece è diventata veramente la normalità non dico che questa cosa mi garba però come tutte le cose ormai ci conviviamo ormai è veramente normalità ma stavo dire questo è solo un mio pensiero do solo voce ai miei pensieri perché poi c'è sempre la parte malinconica di me il tifoso che è ancora legato a Moratti io da interista Berlusconi per un milanista Famiglia Agnelli o Elkan per Juventini e bla 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 i cragnotti i sensi della situazione e via dicendo andiamo al presente però basta hai rotto già le scatole andiamo al presente è uscita la nota appunto ufficiale si è espresso il voglio dire proprio il nome corretto il managing director si è espresso Alejandro Cano e vado a parafrasare cosa ci dice nella nota ufficiale come nuova proprietà conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell'eredità storica dell'Inter siamo impegnati per il successo a lungo termine dei Nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il club si uniscono a quelli dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del club e come la raggiungiamo all'atto pratico ecco questo poi a parole come al solito ci sono tante cose ma poi voglio capire nella pratica e la pratica la si scopre nel quotidiano e nei prossimi mesi in termini tempistici abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell'Inter e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al club conquistare la seconda stalla si la seconda stalla oh ma me sono un po' dislessio la seconda stella è stato un momento cruciale per il club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo vediamo 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 perché io in termini in termini pratici come dicevo no io non so esperto di finanza non voglio fare il curo adesso della finanza e ce ne so già tanti secondo me sul web e ne arriveranno sempre sempre di più io nel mio piccolo da tifoso da fruitore da fruitore di questo sport e da interista posso solo dire quello che il mio pensiero è come ho già espresso prima finché c'è questo lato dirigenziale quindi lato campo siamo affidati nelle mani al lato pratico di Marotte Bacin Auxilio secondo me abbiamo gente competente gente capace gente che ci può portare scusate ci può portare a una a una continuità a una continuità poi credo che è nell'interesse di tutti no far far combaciare queste figure anche con l'atto finanziario per cui vedremo a lato pratico io non so se Oktrid davvero manterrà la proprietà oppure deciderà di vendere questo onestamente o in quanti anni lo farà perché comunque lo prendiamoci in giro l'obiettivo è quello di certamente di non sperperare il patrimonio se c'è una cosa che sta funzionando non è che la vai a sfaldare ma di creare valore e poi vendere quindi vedremo quando questo accadrà onestamente ma sicuramente la strada non è quella di smantellare tutto e via assolutamente no perché questo sento un po' dire erroneamente no io credo che l'inter a oggi paradossalmente visto che Zhang non era in grado appunto neanche di poter coprire il prestito triennale dei 300 non è stato proprio all'atto pratico in grado di coprire il prestito triennale dei 395 milioni significa che non aveva più una certa stabilità e paradossalmente oggi l'inter è anche più più stabile o sto dicendo o sto dicendo cavolate proprietà americana noi abbiamo in Italia anche quella della della Roma e mi sembrano comunque personaggi affidabili nella io ho sempre parlato io ho sempre visto di buon occhio no per esempio i Friedkin e la Roma per cui mi sembra mi sembra di mi sembra che può esserci appunto una certa una certa continuità può esserci una certa stabilità questo ripeto è quello che percepisco io oggi da tifoso che non è la verità che non è io dico solo il mio le mie sensazioni le condivido con voi sono sono veramente sono sono sereno sono convinto che purtroppo Zhang qualora fosse riuscito a dilazionare anche attraverso Pimco a fare entrare altri no altre figure dentro secondo me sarebbe stato e sarebbe stato peggio sarebbe stato un dissanguarsi un rincorrere stare lì a rincorrere una valanga che si si ingrandiva di un anno in anno per cui paradossalmente credo che questa oggi sia la miglior soluzione per l'Inter ma e voglio dire un ma grandissimo comunque ringrazio quello quello che la proprietà Suning ha fatto per l'Inter non voglio voltare e voltarmi dall'altro lato e dire no quelli hanno portato solo rognani no no assolutamente con Zhang con la proprietà Suning con Zhang presidente l'Inter è tornata a vincere l'Inter è tornata a competere l'Inter ha vinto uno scudetto due Coppa Italia e due Supercoppa se non vado errato due Coppa Italia e tre addirittura Supercoppa italiane poi sappiamo anche che abbiamo raggiunto la finale di Champions la finale di Europa League con Conte entrambe perse però questo ci dà il segnale che l'Inter è stata competitiva anche in Europa e per dieci scarsi dieci anni l'Inter non l'ha giocata neanche la Champions abbiamo avuto veramente anni bruttissimi bui poi con Spalletti che ci ha riportato in Champions con Conte che ci ha riportato lo scudetto con Inzai che ci ha riportato essere competitivi su tutto ho citato gli allenatori ma dovrei citare il lavoro dirigenziale soprattutto onestamente poi ci toglie gli allenatori perché si va sul pratico però è stato veramente un lavoro dirigenziale ottimo e quindi e quindi dico assolutamente grazie a Zhang grazie a quello quello che hanno fatto ma oggi è giusto che sia che sia così onestamente sì non non ho altro da aggiungere non ho veramente altro da aggiungere vediamo cosa cosa succederà con con gli americani al timone in realtà l'Inter si è servita già dei soldi di OCTRI quindi sotto alcuni punti di vista eravamo già eravamo già sotto 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 la custodia di OCTRI anche perché alcuni alcuni uomini di fiducia di OCTRI già c'erano all'interno dell'Inter è ovvio palese per cui secondo me almeno nell'immediato non cambierà proprio nulla questo quello che percepisco io ripeto da tifoso da ignorante soprattutto diciamolo perché qua non dobbiamo fare i guru secondo me all'atto pratico sicuramente non 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 ci saranno meglio meglio sta zitto e vi abbraccio tutti quanti e ci aggiorniamo ci aggiorniamo un grande abbraccio da rischi